airdrop di token tenet vediamo come si fa e ti puoi assicurare la allocation dell'airdrop non so se saranno grandi soldoni oppure pochi spiccioli però è molto importante vediamo innanzitutto cos'è tenet come vedi tenet è un lsd backing by a native stable coin lsd non è una droga ma sta per liquid staking derivates che cosa significa liquid staking derivates è un po' come il lido è un po' come quello che è successo per ethereum adesso sta succedendo per l'ecosistema cosmos e per atom quindi potrebbe essere la prossima narrativa cripto cioè che significa che potremmo guadagnarci in maniera particolare perché mettendo a staking i propri asset in questo caso asset dell'ecosistema cosmos ma stessa cosa sta avvenendo con gli staked ethereum queste piattaforme in cambio quando ti metti a staking i tuoi asset le tue cripto ti rilasciano dei token indietro che stanno a significare la tua partecipazione di staking e si chiamano proprio lsd non è una droga sta per liquid staking derivates quindi quando metti a staking i tuoi dirium sul lido ti rilasciano i token lido che non so se guardi il grafico insomma ha fatto anche un buon per 4 per 5 e ce ne sono tanti altri sui dirium tenet va tenuto d'occhio vediamo in questo breve video tutti i passaggi per assicurarti l'airdrop e far parte della community tenet prima cosa devi scaricarti come vedi da google play qua in alto download in google play il wallet eva crypto wallet te clicca installa io clicca clicco aggiorna perché come vedi già l'ho installato circa pesa circa 8 mega e 44 aspetta perché ti do il codice invito per guadagnare subito alcuni token quello è il mio codice invito in totale trasparenza te lo do poi te condividi il tuo perché perché invitando i tuoi amici farai guadagnare loro e guadagnerai anche te qualche qualche token tenet in più che non so quanto varrà però se farà come lido potremmo avere buone chance di portare a casa qualche centinaio di dollari senza grande sforzo questo è il wallet tenet come vedi accesso in anteprima lo hanno scaricato circa mille persone in tutto il mondo quindi siamo tra i primi vedi ti dà il benvenuto ti dice è bello vederti ancora la seconda volta la prima volta ti fa entrare metti il tuo codice pin ti do subito il numero invito perché te lo chiede la prima volta che entri eccolo guarda sta qua su earnings poi vediamo come funziona questo simbolo con il fulmine come vedi ecco questo è il codice invito te inserisci questo che è 97 y x 1 i j 1 tutto maiuscolo te lo metto anche sotto così puoi fare copia e incolla comunque è facile 97 y x 1 in maiuscolo j maiuscolo 1 poi condividi il tuo una volta che sei entrato ti dovrebbe già dare io ho preso quello di thomas che ringrazio lo ha condiviso sui gruppi riservati di airdrop ac69 qualche giorno fa quindi nella banda nei gruppi riservati siamo avvantaggiati di 4 giorni però ecco appena ho avuto un minimo di tempo ti registro immediatamente questo video per farti guadagnare anche a te quindi sfrutta questo codice poi condividi il tuo il tuo lo trovi qua sotto earnings e invitando i tuoi amici gli fai guadagnare mi sembra 5 ticket e anche te ne guadagni 5 ticket ora torniamo al sotto andiamo sulla pagina iniziale wallet ora che sei entrato hai messo il codice invito anche perché senza codice invito non lo scarichi quindi ti serve un codice invito e come vedi la prima osservazione al di là che è un wallet ethereum ma anche un wallet matic binance coin usdc sotto arbitrium ethereum e via dicendo tenet è senza chiavi private quindi da una parte non hai le tue chiavi private un po' come metamask un po' come atomic wallet chi più ne ha più ne metta ho fatto anche il corso su trust wallet per chi ragazzacci si è iscritto al corso sa cosa intendo per chiavi private tenet non ha chiavi private ha semplicemente una email diciamo collegata al tuo google play e un pin cioè 4 numerini un po' come il cellulare per accedere al wallet quindi questo potrebbe essere un vantaggio ma nel futuro potrebbe essere uno svantaggio perché se tenet decide di chiudere tenet non ha le due chiavi private vediamo come andrà questo progetto che è sicuramente da tenere d'occhio quindi questo è il wallet puoi spedire cripto per adesso supporta solo queste 5 ma non mi meraviglierei visto che è uscito da 4 giorni che tra qualche settimana ne supporterà 50 invece che 5 puoi riceverle con il bottone ricevi ok qui c'è la storia dei tuoi guadagni come vedi ancora non l'ho sfruttato sono in attesa dell'ail drop come vedi qui c'è per fare earnings quindi non ti fermare a fare share ovvero con questo bottone come vedi puoi condividere su telegram ti invito al gruppo ac69 crypto trading è gratis proprio questo e tante altre notizie lo trovi qua in descrizione al video qui puoi fare share ma se scorri sotto ok puoi fare i vari task giornalieri uno di questi task è questo quando clicchi clicchi claim cioè ottieni i ticket ecco fatto e già hai ottenuto un nuovo ticket ovvero più ticket riesce a collezionare più token tenet nel futuro inizierai a guadagnare dice vedi obiettivo raggiunto completato domani dovrai fare un altro claim poi c'è il gioco di pepe che è il nostro amico ranocchio e questo ragazzi è dura e se ecco ok perfetto però sicuramente c'è c'è chi è molto più bravo di me a giocare con pepe devi mantenere in equilibrio devi fare le tue prove ti faccio vedere ma forse mentre registro non funziona quindi non registrare lo schermo quando giochi con pepe e puoi fare fino a 25 ticket al giorno poi sotto c'è la classifica come vedi nel mondo a parte siamo solo un migliaio per ora che lo utilizziamo c'è gente che sta tutto il giorno a giocare con pepe e a invitare utenti questi sono io adesso mi chiamerò con il nome ac69 qui c'è il tuo profilo ma guarda è molto semplice puoi mettere qualcosa nell'abbio puoi anche identificarti invece che come user e niente forse ok non funziona il touch screen intanto che registro infatti anche pepe si è schiantato svariate volte ok facciamo salva back qui trovi il tuo indirizzo il tuo profilo e puoi abilitare o disabilitare le notifiche è abbastanza immediato comunque questo è quello che devi fare per piazzarti e guadagnare token tenet quindi buon guadagno ragazzazzi e ragazzacce della banda ac69 crypto trading spero di averti dato valore aggiunto pollice all'insù condividi unisci del gruppo telegram e in descrizione a questo video trovi tutte le informazioni per supportare questo canale ultima cosa non meno importante quando hai i tuoi token cava i tuoi token stride i tuoi token band e nomic se ti va e vuoi aiutare questo progetto delega lì ai noti ac69 per dare una mano all'ecosistema cosmos ci vediamo alla prossima ciao da lei